Allora, mi trovo con il professor Maurizio Del Conte, che è docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, nonché presidente dell'Affol Milano. Benvenuto all'appuntamento. Saluti a tutti. Allora, professore, io partirei innanzitutto subito con l'individuare. Quali sono, a suo giudizio, le prospettive per il mercato del lavoro dopo l'avvento del Covid? Che prospettive vede lei? Noi stiamo già verificando un cambiamento in atto nel mercato del lavoro lombardo, in particolare dal nostro osservatorio specifico di Affol. Vediamo che non vengono rinnovati contratti a termine e quindi ci aspettiamo nel giro di un paio di mesi un calo di circa 120.000 posizioni lavorative. Ricordiamo che in questa fase è ancora vicente il blocco dei licenziamenti, quindi si blocca l'uscita ma si blocca anche l'entrata nel mercato del lavoro. Certamente la ripresa sarà differenziata, non avremo una ripresa orizzontale per tutti i settori. Ci aspettiamo che alcuni settori tarderanno molto a riprendere i volumi pre-crisi, mentre altri paradossalmente potrebbero trarre opportunità di sviluppo proprio da questa crisi. Pensiamo, più banale, più intuitivo, è tutta la filiera del settore sanitario sulla quale verranno fatti forti investimenti, ma non soltanto in termini di medici, ma anche di tutte le infrastrutture che sono necessarie, abbiamo visto, vanno ridisegnate in funzione dell'emergenza epidemiologica. E poi ci sono settori come per esempio tutto ciò che è legato all'e-commerce e in particolare quindi alla logistica, che resteranno in una quota importante anche nel post-Covid e quindi ci sarà paradossalmente in questi settori una scarsità di lavoro, di competenze disponibili sul mercato. Quello che in termine tecnico si chiama skills shortage, cioè scarsità di competenze. Ora, questo è paradossale, se ci pensiamo, perché avremo sicuramente tanti disoccupati, ma d'altra parte in alcuni settori avremo fatica, faremo fatica a reperire sul mercato i lavoratori che servono. Senta, professore, come dovrà interagire colui il quale volesse attraverso l'AFOL cercare un lavoro? Cosa bisogna fare? Ma allora, innanzitutto dovrà mettersi in contatto con l'AFOL. Noi abbiamo una rete di centri per l'impiego sul territorio. In questa fase ancora non sono fisicamente aperti, ma sono contattabili via email o telefonicamente. E poi ingaggiarsi con noi, cioè la parola chiave io credo che sarà sempre di più formazione, riqualificazione. Oggi è fondamentale essere disponibili a cambiare percorso rispetto a quella che è stata l'esperienza lavorativa passata. Del resto, se ci si rivolge ad AFOL è perché si vuole cambiare mestiere. Bisogna proprio essere aperti. Noi offriamo percorsi di riqualificazione, di formazione professionale e stiamo sempre di più andando a lineare questi percorsi alla domanda di competenze effettivamente richieste dal mercato. Quello che noi stiamo facendo in particolare è sollecitare le imprese e mappare i loro fabbisogni. Sarà fondamentale, questo sarà strategico nell'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro, capire esattamente quanti e quali posti saranno richiesti nei prossimi mesi e in prospettiva. Ed è quello che noi stiamo facendo, agganciando le imprese e chiedendo loro di che cosa effettivamente hanno bisogno. Ecco, a questo proposito, a proposito di agganciare le imprese, secondo lei che cosa devono fare in questo momento le istituzioni per agevolare un ingresso o un ritorno al mondo del lavoro? Guardi, fino adesso noi sappiamo che questa emergenza è stata gestita, affrontata soprattutto attraverso i sussili, cioè soprattutto attraverso una sorta di tampone, mi spiace usare questo termine in questi tempi, ma un tampone economico rispetto alla falla, ma all'emoragia di liquidità e all'emoragia di lavoro. Però è chiaro che questa è una pezza che non risolve il problema, garantisce la sopravvivenza, il mantenimento non soltanto del reddito delle famiglie, ma anche la sopravvivenza delle imprese grazie soprattutto all'intervento di cassa integrazione. Tuttavia noi dobbiamo pensare al dopo, cioè dobbiamo pensare a come favorire la ripresa e allora io credo che nella fase 2, ma poi anche soprattutto nella fase 3, sarà necessario fare investimenti, investimenti in alcune direzioni che devono essere però chiare. Innanzitutto, lo dicevo prima, investimenti in formazione, cioè noi dobbiamo far crescere le competenze degli italiani in coerenza con quello che l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione post-covid del mercato del lavoro richiederà. Quindi fare tanta formazione professionale, ma non formazione orizzontale, per intenderci la solita o corso di lingua o il solito pacchetto di informatica non servono più a nulla, bisogna crearsi un mestiere, possibilmente certificando le competenze. Naturalmente è fondamentale che le istituzioni abbiano capacità di visione su tutto il territorio nazionale, dove si sviluppa l'impresa, dove fa più fatica e quindi andare a investire soprattutto nelle situazioni che vanno accompagnate verso una ripresa. Sviluppare le infrastrutture, noi abbiamo un problema e lo abbiamo sperimentato in questa fase di smart working forzato di connessioni. Abbiamo un problema di banda larga che raggiunge i grandi centri urbani, ma non raggiunge le periferie. Sappiamo quanto il nostro paese si fonda sulle periferie, sulla provincia e questa è un'opera di infrastrutturazione che il nostro si aspetta da troppo tempo e dobbiamo completare rapidamente. Anche qui si aprono delle grandi opportunità per il digitale, per tutto un filone, una filiera di professionalità che saranno sicuramente richieste. E poi bisogna ridurre il costo del lavoro, in particolare bisogna ridurre la parte fiscale contributiva che incide sul costo del lavoro. Abbiamo speso tantissimi, stiamo spendendo tantissimi miliardi in sussidi, in strumenti di mantenimento del reddito. Pensiamo che se spendessimo una quota di quelle risorse per ridurre il costo del fiscale contributivo del lavoro, le nostre imprese avrebbero davvero molto più spazio competitivo e potrebbero più rapidamente rimettersi a conquistare quote di mercato. Senta, posso chiederle, a proposito della conquista di quote di mercato, ma ai suoi studenti, lei, come si rivolge, che cosa dice nel momento in cui stanno per vivere la fase del passaggio dall'università al mercato del lavoro? Cioè un uomo come lei, un professore come lei, cosa suggerisce ai propri studenti? Tanta apertura mentale, tanta disponibilità a cambiare, tanta disponibilità a viaggiare, andare in giro, che non significa, non facciamoci prendere dalla retorica della fuga dei cervelli. I cervelli è importante che si muovano ed è importante che escano e rientrino in Italia. Quindi noi abbiamo bisogno di attrarre da fuori, così come abbiamo bisogno di mescolarci con il resto del mondo e soprattutto la capacità di studiare non tanto l'ultimo miglio, l'ultimo pezzettino di, come dire, materia ultraspecialistica, ma avere le fondamenta per essere pronti a imparare cose nuove. Oggi chi esce da un percorso universitario, io insegno alla Bocconi, sono certamente studenti molto preparati e certamente studenti che hanno già importanti sbocchi di lavoro il giorno stesso in cui si laureano, ma devono sapere che il loro percorso formativo non finisce con la laurea. Si deve continuare a studiare, quindi quello che in tanti anni si è cercato di far capire, l'apprendimento permanente durante tutto il corso della vita diventerà strategico per non rimanere progressivamente ai margini del lavoro. Ecco, professore, un'ultima domanda, le chiedo se può di essere breve. Quanto conta la cultura nella formazione di chi poi accede al mercato del lavoro in un paese come l'Italia? Conta tantissimo, direi che conta più di qualunque altra cosa. Oggi chi si spende sul mercato del lavoro spende la propria cultura. Cultura che non è soltanto, come dicevo prima, la cultura ultraspecialistica, ma anche la cultura generale. I nostri ragazzi si fanno valere quando vanno in giro per il mondo anche per la forza della loro cultura, la cultura che hanno appreso nelle scuole italiane e questo io penso sia un patrimonio che non possiamo assolutamente disperdere. Professore, io la ringrazio moltissimo della sua cortesia e del suo tempo e spero di averla ancora ospite qui da Roma. Molto volentieri, speriamo di aver detto delle cose che interessino i nostri ascoltatori e i nostri frequentatori del sito. Ne sono certo, ne sono certo. Grazie molte. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima.